Secondo te, chi è il pilota migliore? Bori, direi. Gli farai mangiare la polvere! Yan, quello che fai tu è giocare ai videogame con delle auto da corsa pazzesche. Papà, ci hai detto tu di fare quello che amiamo. Sai il costo di un'auto così? Guardati in giro. Non è il nostro mondo, figliolo. Che cos'è? È un contest. Per i migliori giocatori di Gran Turismo del mondo. L'occasione di competere con dei professionisti. Amico è reale. È reale. Come puoi pensare di prendere un ragazzino che gioca ai videogame nella sua camera e di metterlo in un razzo che viaggia alla velocità di 320 km orari? Lo farà a brandelli! Non funzionerà. I ragazzi che gareggiano sono atleti d'elite. I tuoi sono gracili giocatori di videogame. Ora tocca a te. Avanti, coraggio! Deve essere un'esperienza nuova per voi. Forza con quelle gambe! Hai vomitato sul mio prato? Quando siete in gara, l'abitacolo raggiungerà i 60 gradi. La forza di gravità sarà il doppio di quella che sente l'astronauta al decollo. Non vedo niente! Ehi, si ottengono dei punti in più nel gioco per questo? Gesù Cristo! È una follia, ma fra tutti i nerd pantofolai che mi hai mandato, lui è il migliore. Ce l'hai fatta. Sì! Benvenuto nel team Nissan. Prossimo passo. La serie A. Gli altri piloti ti odieranno a morte. Oh? Che problema hai? È il gioco, si chiama Corri. Se manchi una linea nel gioco, puoi azzerare tutto. Se la manchi in pista, puoi morire. Conosco questa pista. Ci ho gareggiato un migliaio di volte. Vai alla grande! Non stop now!